Su scala nazionale ci vediamo al caffè. Per la Calabria ha già aderito una rete di comuni della provincia con l'obiettivo di promuovere la cura delle persone con demenze. Ce ne parla Ilaria Raffaele. Una piattaforma digitale che in tutta Italia metterà in collegamento professionisti, famiglie e pazienti. Si chiamerà August, in onore della prima persona con demenza curata da dottor Alzheimer. A Catanzaro la presentazione è una grande innovazione nella cura di queste persone. Sarà infatti una vera e propria piazza virtuale che si prenderà cura dei pazienti di demenza e farà anche prevenzione. Una sorta di rete di protezione sociale dove le famiglie possono essere aiutate e confortate ma principalmente orientate. Orientate verso una migliore relazione di cura con i loro cari nella quotidianità ma anche orientate nella individuazione dei sintomi, dei primi sintomi di una demenza. Calabria hanno già aderito sette comuni della provincia di Catanzaro. Botricello, Chiaravalle, Pianopoli, Soverato, Cicale e Tiriolo oltre al capoluogo. Alla presentazione al palco della biodiversità tutti i sindaci della rete. Loro un impegno a collegarsi con le famiglie e le persone con demenze del resto d'Italia in diretta streaming per farle assistere da medici, terapisti e altre figure professionali ad accogliere la presentazione del progetto una sala dal nome evocativo delle giovani idee perché con le innovazioni più fresche che si può davvero cambiare la qualità della vita di queste persone.